In questa breve guida ti mostreremo come effettuare transazioni con i token Split. Tieni presente che per ricevere transazioni devi avere dei Coin Smart nel tuo portafoglio. Apri il portafoglio. Nella schermata principale trova Split e cliccaci sopra. Per inviare dei token, clicca sul pulsante Send. Specifica l'indirizzo del portafoglio a cui vuoi inviare i token e l'importo della transazione. Conferma l'azione. Si aprirà una schermata con il messaggio che indica che la transazione è stata completata con successo. Per ricevere il token Split, clicca sul pulsante Receive. Nella schermata che si apre vedrai l'indirizzo del tuo portafoglio, che puoi copiare, e l'indirizzo sotto forma di codice QR. Puoi copiare l'indirizzo e il codice QR semplicemente cliccando su di essi. Puoi anche specificare immediatamente il numero dei token che vuoi ricevere e inviare il codice QR alla persona da cui desideri ricevere la transazione. Quando l'utente scansionerà il codice QR, l'importo da te richiesto apparirà immediatamente nel tuo schermo. Ti ricordiamo che qualsiasi transazione di token Split in uscita, anche se si tratta di uno Split su mille, azzererà l'età di tutti i tuoi token. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro servizio di assistenza e saremo lieti di aiutarti. Ti auguriamo un buon lavoro! Il nostro buon lavoro è www.mesmerism.info